Sono stati due giorni importanti per la città di Mogliano Veneto, i commissari di Aces ci hanno appena salutato e sono ritornati a casa. Abbiamo fatto vedere che la città di Mogliano è sport, è cultura, è turismo, ma soprattutto è una grande famiglia. Abbiamo visto i nostri olimpici testimonial insieme a noi in tutto il percorso per l'associazione sportiva del territorio, i presidenti che si sono messi in gioco e quello che noi auspichiamo è che Mogliano Veneto possa davvero diventare Città Europea dello Sport 2025.